Pensata per i writers, vediamo. Io ho iniziato il 1988 a Milano, posso dire di essere comunque uno dei primi writer italiani che ha importato questo fenomeno in Italia. Un muro, una bomboletta spray, non sono vandali che di notte imbrattano le strade delle nostre città o i vagoni della metropolitana, ma artisti che espongono le loro opere nelle gallerie d'arte di tutto il mondo, si chiamano K1, Gattonero, Atomo, Pao, sono alcuni dei più stimati street writers. Per un paio di giorni a Lecco hanno aiutato i ragazzi delle scuole e i giovani writer a decorare i muri di una zona degradata della città, vicino alla stazione. Sono 39 anni, perciò i writer non sono solo ragazzini di 15 anni, continuo a farli, continuo a divertirmi. Di questo ne ho fatto anche un lavoro.